Qual è l'evento che è al centro di quella che noi chiamiamo Bibbia ebraica? Se leggiamo il Nuovo Testamento, noi abbiamo chiaramente un evento di riferimento, e cioè la passione, la morte e la risurrezione di Gesù. Cristo risorto è il messaggio fondante del cristianesimo. Ma esiste nella Bibbia ebraica qualcosa di analogo? Possiamo dire che esiste un centro intorno al quale tutto ruota? Beh, come i cristiani diciamo che abbiamo un compito un po' più facile, perché potremmo dire che, così come tutto il centro per noi è il Cristo risorto, così possiamo estendere questo centro anche all'Antico Testamento. E in effetti quello che i Vangelici invitano a fare. I discepoli di Emmaus camminano con Gesù senza saperlo, e questo personaggio che è accanto a loro, che loro non sanno che è Gesù, ma che il lettore sa che è Gesù, comincia loro a spiegare in tutte le scritture, a cominciare da Mosè e poi fino ai profeti, quello che si riferiva a lui, quello che si riferiva agli eventi che questi discepoli avevano vissuto. Però questa è una lettura tipicamente cristiana. Per arrivare però a questa lettura, cioè per fare questo salto e leggere tutto in chiave cristiana, dobbiamo però capire qual è la consistenza prima che tiene insieme la Bibbia ebraica in quanto tale. Perché la Bibbia ebraica in quanto tale è un materiale estremamente eterogeneo. C'è un evento che possiamo paragonare alla passione, alla morte e alla risurrezione di Gesù per comprendere ciò che la Bibbia ci racconta? Sì, questo evento esiste. Questo evento è l'esilio e il ritorno da Babilonia. Allora, per capire questo, dobbiamo aver presente proprio gli eventi fondamentali della storia di Israele raccontati dalla Bibbia. Mille anni prima della nascita di Cristo c'è il regno di Davide. Questo regno viene lasciato al figlio Salomone, ma alla morte di Salomone avviene una divisione di questo regno. Quindi avviene un evento traumatico. La fine del regno di Davide e Salomone si conclude con uno scisma, con una secessione. Il regno del nord e il regno del sud. Nel regno del nord confluiscono i territori e i popoli di dieci tribù. Nel regno del sud restano, con intorno nucleo la capitale Gerusalemme, due tribù, la tribù di Giuda e la tribù di Levi. Dopo qualche centinaio di anni, più o meno nel 720 prima di Cristo, cade il regno del nord. Il regno del nord viene distrutto, scompare, perché viene assimilato dall'impero Assiro. Vedete, la storia di questo popolo non è isolata. La storia di questo popolo, Israele, che ci ha consegnato la Bibbia, è una storia nel tessuto della storia di tanti altri popoli. Fa parte del grande palcoscenico del mondo, dove le cose si avvicendano e tutto si trasforma. Il regno del nord cade. Due secoli dopo, o quasi due secoli dopo, un po' meno, all'inizio del VI secolo, nel 586 a.C., abbiamo una data più precisa, cade anche il regno del sud, il regno di Giuda. Il regno del sud viene conquistato e distrutto dai babilonesi e anche questo dovrebbe fare la stessa fine delle altre dieci tribù. E come spesso succede nella storia, un popolo sconfitto e annientato da un impero più grande viene mangiato, viene assimilato e non ha più un'eredità storica suo indipendente. E questo è vero anche dei grandi imperi. Non solo i piccoli regni, come quello del re Davide e Salomone, ma anche i grandi imperi scompaiono, perché vengono spesso mangiati da altri grandi imperi. La storia della mezzaluna fertile, la storia della terra della Palestina, la storia del vicino Oriente è un alternarsi di drammatico, di imperi. Pensate che Israele è stato indipendente per un po' di tempo, ma dopo gli assiri e i babilonesi sono arrivati i persiani, dopo i persiani sono arrivati i greci, il regno di Alessandro Magno e poi i vari re ellenisti, dopo la fine degli imperi ellenisti sono arrivati i rumani. E sapete che tutti questi popoli, assiri, babilonesi, persiani antichi, romani antichi, egiziani antichi, sono tutti scomparsi. Che cosa rimane? Rimane però l'identità di questo popolo ebraico. E questo è di per sé un fenomeno molto interessante. Che cosa ha permesso di sopravvivere nel tempo alla identità di questo popolo? Che cosa ha permesso a questo popolo di consegnarci qualcosa che abbiamo ancora oggi? Certamente dobbiamo molto ai popoli antichi, dobbiamo la cultura, dobbiamo l'arte, però che cosa ci rimane? Noi abbiamo scoperto molto dei popoli antichi leggendo i loro antichi testi, che abbiamo scoperto, tra l'altro, molti di questi scavando. L'archeologia ci ha consegnato una conoscenza del mondo antico che fino a due secoli fa era impensabile. Poi le ultime scoperte dell'archeologia ci hanno consegnato mondi, città, e conosciamo gran parte, e anche molto dettagliatamente, la storia e la lingua di questi popoli, proprio perché siamo andati a cercare tra le loro rovine. Ma il popolo di Israele è rimasto vivo spiritualmente perché non ha consegnato dei ruderi alla storia, non ha consegnato semplicemente degli antichi manoscritti o delle antiche opere d'arte. Il popolo di Israele ha consegnato al mondo attuale, al nostro mondo, all'oggi, un'idea, una grande idea, un'idea sconvolgente che ha assegnato profondamente il nostro mondo. Non soltanto ha assegnato profondamente tre grandi religioni, quindi il giudaismo, ovviamente, ma anche il cristianesimo e l'islam nascono sulla radice, sul tronco del giudaismo, quindi su questa idea. Ma anche tutto il nostro mondo occidentale è profondamente fecondato, per non dire condizionato sotto certi aspetti dai racconti biblici e da questo senso della realtà della storia che gli antichi ibrei ci hanno consegnato. Qual è questa idea? È un'idea che ha due contenuti principali. Prima di tutto esiste un solo Dio, l'idea del monoteismo. In un mondo che aveva tanti dèi e dava per scontata la manifestazione del divino in maniera multiforme, l'idea che ogni fenomeno naturale, ogni fenomeno sociale, ogni potere, ogni cosa che manifestasse qualcosa di superiore all'uomo fosse legata in qualche modo a un divino, a una divinità, era un'idea molto comune. L'idea del monoteismo rompe con questa concezione precedente. Ma non solo. Non c'è soltanto l'idea dell'unicità di Dio. C'è anche un'altra idea. L'idea che questo Dio non si fa conoscere come gli altri dèi attraverso dei fenomeni naturali, dei fenomeni sociali. Non è il Dio del re. Non è il Dio delle forze della psiche. Non è il Dio delle forze naturali, del cielo, del mare, del tuono o degli istinti, dell'amore, dell'aggressività, della guerra. Tutte forze che sono più grandi dell'uomo e che manifestano qualcosa di superiore all'uomo. Il Dio della Bibbia non si manifesta attraverso dei fenomeni naturali. Il Dio della Bibbia si manifesta soprattutto attraverso degli eventi. Si manifesta soprattutto attraverso il corso della storia. Le idee che ci vengono dall'antico Israele sono principalmente queste due. L'idea di un Dio unico e l'idea di un Dio unico che si conosce attraverso gli eventi della storia. Queste due idee sono una vera e propria rivoluzione. Sono una trasformazione radicale del modo di pensare antico. Di solito siamo abituati a pensare alla Bibbia come un testo tradizionale, cioè che contenga dei principi molto conservatori, molto legati al passato. Ecco, dovremmo un po' capovolgere il nostro modo di accostarci alla Bibbia e renderci conto che in realtà la Bibbia, per il contesto in cui è nata e per il messaggio che contiene, che conteneva anche a quei tempi, è un testo in realtà trasformante del mondo e della società. È un testo realmente rivoluzionario perché propone, offre e spinge un capovolgimento della realtà. Questa idea, quindi l'idea di un Dio unico e l'idea di un Dio che si manifesta nella storia, è stata un'idea talmente forte che ha permesso a un popolo annientato, che sarebbe potuto essere distrutto dall'esperienza dell'esilio, ha permesso a questo popolo di sopravvivere e di offrire un'eredità fino a oggi. Tant'è vero che l'identità di questo popolo esiste ancora oggi. Ancora oggi uno può definirsi ebreo, riconoscersi nell'eredità dell'antico Israele. E' l'anima profonda della Bibbia. Questa idea emerge con forza proprio nel momento storico dell'esilio. L'esilio di Babilonia, cioè quando il re Nabucodonosor conquista Gerusalemme, la distrugge, poteva essere la fine di tutto. In realtà, che cosa accade? Una parte del popolo rimane in questa terra, soprattutto le classi sociali più basse, i contadini, i lavoratori della terra, mentre tutti quelli che diremmo oggi sapevano leggere e scrivere vengono deportati in Babilonia. Questa elite, che eredita, ha comunque conservato e coltivato il tesoro del passato, ha riletto tutto il passato in un modo nuovo e ha offerto a Israele un modo nuovo di pensare, di vedere il mondo. viene realmente fondata una nazione con questo ritorno dall'esilio. Tutto è stato interpretato in questa luce del ritorno dell'esilio. Tutto viene rifondato. Quella che poteva essere la morte di un popolo diventa l'occasione della sua risurrezione. Perché? Perché Israele torna dall'esilio. E quando gli ebrei tornano dall'esilio ricostruiscono di nuovo non soltanto una nazione, ma ricostruiscono un'idea, un modo nuovo di leggere le cose, di leggere la realtà. Per noi credenti tutto questo avviene per opera di Dio, sotto la potenza e l'opera dello spirito. Però si tratta di una realtà che possiamo discernere anche umanamente con gli occhi della storia, con gli occhi di chi studia questi eventi. E li studia anche in una chiave umana. Come vedremo, studiare tutti questi eventi in chiave umana non ci impedisce anche di leggerli in chiave divina.